Tra poco il notiziario di ETV, tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su ETV Rete 7, chiama 051 63 81 819. Buongiorno e benvenuti a ETG Bologna. E con la cronaca, capiamo questa edizione del telegiornale con la notizia di una notte davvero di terrore a Bologna per una famiglia che abita in una villetta alle spalle dei giardini Margherita, dove appunto la scorsa notte tre rapinatori mascherati e armati di pistola hanno tentato una rapina. L'intervento di alcuni vicini di casa li ha messi in fuga, ma poi, inseguiti dalla polizia, hanno anche provocato un incidente stradale. Allora, ricostruiamo tutte le concitate fasi di questo fatto di cronaca nel servizio di Federico Balletti. Tre banditi armati di pistola hanno tentato una rapina in una villetta la scorsa notte in via Gandino, zona Giardini Margherita, a Bologna. Poco dopo mezzanotte, approfittando di una porta finestra lasciata socchiusa per far entrare e uscire il cane dal giardino, sono entrati a volto coperto nell'abitazione. L'abitazione hanno sorpreso la proprietaria, una cinquantenne, in casa con due figli e la fidanzata di uno di loro. La donna ha tentato una reazione, ma è stata spintonata dai ladri, uno dei quali ha poi estratto una pistola che avrebbe puntato addosso ai presenti. Terrorizzati, i quattro sono riusciti a rifugiarsi in una stanza e da lì hanno dato l'allarme. La ragazzina è riuscita a telefonare ai genitori, mentre con le loro grida hanno anche attirato l'attenzione di alcuni vicini. Qualcuno ha chiamato il 113, un altro vicino ha suonato al citofono della famiglia per sapere se fosse tutto a posto. I rapinatori così hanno desistito e sono scappati a mani vuote, inseguiti dalla polizia che nel frattempo aveva ricevuto la segnalazione della rapina. Nella fuga, a 180 km orari lungo via Murri e via Toscana, hanno poi provocato un incidente all'altezza del ponte sul Savena, scontrandosi contro un'altra auto la cui occupante, una donna, è rimasta ferita. A quel punto i ladri hanno abbandonato la macchina, si sono dileguati a piedi. Sulla vettura, quasi certamente rubata e probabilmente con la targa sostituita, la polizia ha ritrovato altre targhe e vari arnesi da scasso. Sull'episodio sono in corso indagini, anche esaminando telecamere di sorveglianza della zona per cercare di identificare la banda di rapinatori. Voltiamo decisamente pagina, ma torneremo sulla cronaca, perché è iniziato il viaggio del cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, a Mosca. Il programma degli incontri nell'ambito della sua missione resta sempre sotto stretto riservo, considerando anche che l'agenda potrebbe risentire di cambiamenti in ogni momento. Oggi pomeriggio comunque l'inviato papale presiderà una messa nella cattedrale cattolica della capitale russa, dedicata all'Immacolata Concezione, sede vescovile dell'arcidiocesi metropolitana della Madre di Dio a Mosca. Gli incontri al patriarcato ortodosso, con tutta probabilità col patriarca Kirill, dovrebbero aver luogo domattina, mentre fra oggi e domani sono previsti anche i colloqui al Cremlino, in particolare sulla questione dei bambini ucraini deportati in Russia, a quanto pare, però, Zuppi non incontrerà Vladimir Putin. È stata una settimana difficile per me, per ora spero di cambiare dipartimento, a dirlo è la professoressa Francesca Rescigno, docente associata di diritto al Dipartimento di Scienze Politiche di Bologna. Una settimana fa, lo saprete, ha ricevuto una lettera minatoria accompagnata da una zampa di animale recisa e la scritta Rescigno hai già perso, vattene dal Dipartimento, puoi farti male. Noi l'abbiamo intervistata oggi, c'era al microfono di Giuseppe Piloni. Professoressa Rescigno, è stata una settimana difficile dopo la lettera minatoria che ha ricevuto, come sta vivendo queste giornate? Sì, è stata decisamente complicata, anche perché non sono abituata ai riflettori, non sono una rock star, però penso che fosse giusto denunciare e penso che sia anche giusto che tutta la questione sia emersa e se ne abbia consapevolezza e ci sia una riflessione generale su quanto è avvenuto, non solo per me naturalmente, ma per l'Università che è il luogo in cui il fatto è avvenuto. Senta, il Comitato per l'Ordine della Sicurezza si è riunito e le ha assegnate una forma di protezione, è soddisfatta di questo? Sono rimasta veramente colpita dall'attenzione, dalla cura che mi è stata dedicata, dal prefetto, dalla questora, è stato un momento per me molto importante, di grande solidarietà e anche questa protezione, seppure soft naturalmente che non incide appunto con la qualità della vita, è una testimonianza di cura delle nostre forze dell'Ordine che va sottolineata e premiata. Senta, invece è rimasta delusa di come l'Università ha reagito da principio? Tante colleghe e colleghi, la comunità degli studenti sono stati meravigliosi, diciamo che le reazioni invece dei piani alti sono state un po' lente, nel senso che Direttore e Magnifico Rettore erano già stati informati da me da martedì 20, nel momento in cui ho sporto la denuncia, ma le reazioni si sono avute solo dopo che la notizia è uscita sui giornali. Quindi questo lasso di tempo mi fa pensare che forse neanche i vertici dell'Ateneo siano pronti ad affrontare questioni di questo tipo e dobbiamo interrogarci sul perché. Chiaramente non è una cosa contro di me, ma dobbiamo essere pronti ad avere gli anticorpi per intimidazioni, per trattare in modo serio ed efficace intimidazioni di questo tipo. Lei comunque è tornata a lavorare al Dipartimento di Scienze Politiche normalmente, diciamo. Allora, per ora chiaramente sono ancora lì, offro chiaramente la mia presenza alle studentesse, agli studenti, abbiamo gli esami, le lauree, e quindi non farò mancare la mia presenza. Però poi vorrei chiedere al magnifico rettore se non pensa che sia meglio un'altra collocazione dove io posso lavorare più serenamente e anche un po' per stemperare un po' il clima. Non l'ho ancora fatto, ma ieri il rettore ha detto che le sue porte sono sempre aperte. Per me, spero che sia vero. Una vicenda che sicuramente avrà un seguito. Violenza sessuale, torniamo alla cronaca, come dicevo. Violenza sessuale, sequestro di persone e maltrattamenti sono le accuse di cui dovrà rispondere un trentenne di origine gambiana, arrestato in flagrante a Bologna dalla polizia per aver sequestrato e costretto a subire abusi l'ex fidanzata. Sentiamo Balletti. Per riuscire a dare l'allarme alla polizia la ragazza ha finto di sentirsi poco bene ha convinto l'ex compagno a fermarsi in una farmacia per controllare la pressione. Qui lei, in fila insieme all'uomo per essere servita è riuscita a fare con la mano il gesto in codice per chiedere aiuto a una farmacista che ha subito colto il segnale l'ha fatta accompagnare sul retro con la scusa appunto di fare la misurazione della pressione. Una volta da sole la giovane vittima una trentenne italiana che vive a Bologna ha potuto raccontare di essere stata sequestrata e violentata dall'ex fidanzato che non accettava la fine della relazione e per un'intera notte l'aveva tenuta segregata in casa costringendola anche a subire un rapporto sessuale contro la sua volontà. La polizia, avvertita dalla stessa farmacista è così arrivata rapidamente nel negozio e ha arrestato l'uomo a un trentenne di origine gambiana regolare in Italia per violenza sessuale, sequestro di persone e maltrattamenti. I due erano stati insieme per sei anni ma da qualche tempo ormai il rapporto era in crisi per la forte gelosia di lui che le controllava il telefono e li impediva di uscire con le amiche. All'inizio di quest'anno lei aveva chiuso lasciandogli però sei mesi di tempo per trovare un'altra sistemazione visto che i due convivevano a casa della ragazza. Ma le cose sono solo peggiorate e lui non se ne voleva andare così lunedì la trentenne è andata a denunciarlo dai carabinieri che hanno subito attivato il codice rosso. Quando lui lo ha saputo la situazione è degenerata l'ha chiusa in casa le ha tolto il cellulare e l'ha violentata. L'indomani le ha permesso di uscire con lui solo per andare dai carabinieri a ritirare la denuncia. Lei ha finto di accettare ma lungo il tragitto con la scusa di entrare in farmacia è riuscita ad avvertire la polizia e mettere fine all'incubo. Marito e moglie evasori totali scoperti e denunciati dalla guardia di finanza nel Bolognese lei estetista e lui fotografo lavoravano completamente in nero e hanno nascosto redditi per oltre 100.000 euro. I dettagli nel servizio di Simone Iannessa. A tradirli e a provocare il cosiddetto effetto boomerang questa volta è stato proprio un utilizzo sin troppo sfacciato e disinvolto dei social dove i due marito e moglie lei estetista e lui fotografo facevano pubblicità delle rispettive attività professionali. Peccato però che album fotografici video di cerimonie e matrimoni mani perfettamente rifinite con tanto di smalto semipermanente o french fossero tutti lavori rigorosamente in nero senza adempiere minimamente ai previsti obblighi contabili contributivi e dichiarativi. Nei guai grazie alle indagini delle fiamme gialle di Bologna sono finiti così due coniugi entrambi romeni residenti nel bolognese che almeno da quattro anni svolgevano indisturbati le loro attività senza versare un euro e senza titoli autorizzativi molto spesso a casa o a domicilio dei clienti. A testimonianza dell'attività lavorativa in nero del marito fotografo sono stati rinvenuti sempre a casa della coppia numerosi file materiale vario relativi a siti fotografici realizzati in occasione di cerimonie in particolare matrimoni. L'estetista abilissima e attivissima nel pubblicizzare le sue manicure e pedicure sui social per nascondere la propria condizione di evasore totale rilasciava ricevute buoni di consegna di un'associazione culturale di facciata e nello stesso lasso di tempo in cui lavorava in nero circa quattro anni ha incassato poi indebitamente oltre 14.000 euro di indennità di disoccupazione e così tra matrimoni album fotografici e manicure i due coniugi sono riusciti a raggranellare un bel gruzzolo che supera i 100.000 euro gli uomini della guardia di finanza di Imola hanno denunciato e sanzionato marito e moglie quest'ultima poi è stata anche segnalata per avere percepito la Naspi indebitamente e l'Inps procederà al recupero dell'intera somma forse era meglio non fare troppa pubblicità sui social La politica per la prima volta dopo anni la Lega andrà a congresso per eleggere il segretario regionale l'appuntamento previsto per domenica a Parma e tra i candidati a segretario della Lega Emilia c'è l'attuale commissario regionale capogruppo in assemblea legislativa Matteo Rancan sentiamolo è la prima volta quindi che leggeremo il segretario della Lega Emilia cosa servirà servirà eliminare le correnti interne quindi per creare più unità possibile servirà cercare di parlare nel merito cercherà di bisognerà cercare di evitare di avere tutti i conflitti interni che ci possono essere stati in questi anni noi dobbiamo guardare al futuro premiare la meritocrazia con scuole politiche scuole di comunicazione cercare il più possibile quindi di creare un gruppo noi siamo ormai una regione piena di amministratori di sindaci di parlamentari consigli regionali e noi dobbiamo prepararci oggi per le sfide del futuro nel 2024 ci saranno tanti capiluogo e comuni che andranno a votare ci saranno le elezioni europee speriamo che ci siano anche le elezioni provinciali e poi la sfida delle sfide che è quella delle regionali del 2025 dove noi crediamo e abbiamo un progetto in mente che praticamente andrà a toccare tutti i temi sanità montagna infrastrutture autonomia dove ci proponiamo come alternativa credibile al PD che oggi insomma non sta lavorando per nulla bene noi crediamo che con una segreteria forte compatta unita che lavori nel merito e cerchi di eliminare i contrasti interni basta correnti l'unica corrente è quella della Lega di poter far bene e di vincere la regione Emilia Romagna nel 2025 voltiamo pagina 900 persone ieri hanno assistito al concerto di beneficenza di Russell Crowe al teatro comunale Nouveau della fiera di Bologna organizzato da Genoma Film sostenuta anche da molti sponsor tra cui Emil Banca e Calzanetto l'incasso sarà devoluto alle popolazioni alluvionate tra gli ospiti presenti ieri sera in sala anche l'ex campione della Juventus Alex Del Piero la voce bassa e graffiante del gladiatore Russell Crowe quasi mille persone in sala tanti bolognesi e personaggi dello sport e dello spettacolo così si presentava ieri sera al teatro comunale Nouveau per l'Indoor Garden Party concerto di beneficenza organizzato da Genoma Film per gli alluvionati dell'Emilia Romagna una serata di musica e di solidarietà che ha visto in prima linea l'attore olivudiano interprete di film indimenticabili il gladiatore Beautiful Mind Robin Hood quel treno per Yuma Cinderella Man Noah e tanti altri presenti in sala anche i campioni dello sport come Alessandro Del Piero che però non si ferma a parlare con i giornalisti entusiasta invece l'organizzatore Paolo Rossi Pisu abbiamo fatto tutto questo in un mese e mezzo siamo a circa 900 biglietti venduti tra quelli comprati dagli sponsor e quelli comprati dai cittadini di Bologna io sono molto felice perché perché vedere che una persona in realtà diciamo non legata all'Emilia Romagna in maniera particolare era la prima volta che veniva qui fa una cosa di questo genere cioè abbassa il suo cachet probabilmente farà anche una donazione sua anche Alex Del Piero sta arrivando e Beppe Signori faranno una donazione insomma è una bella cosa alla fine faremo i conti con il nostro notaio certificheremo l'incasso e fra qualche giorno dirò pubblicamente quello che riusciremo a dare agli alluvionati quindi forza Romagna forza Passiamo al sport in particolare parliamo di pattinaggio perché sono due bolognesi le campionesse del mondo di pattinaggio a rotelle specialità solo dance Caterina Artoni categoria senior e Greta Pani che hanno vinto a San Juan in Argentina destinazione raggiunta grazie ad una raccolta fondi a cui hanno partecipato tanti bolognesi ci racconta questa storia Luca Pinkerle Caterina Artoni e Greta Pani campionesse mondiali di pattinaggio solo dance a San Juan in Argentina è stata veramente tribolata ma un'emozione incredibile arrivare fin qui come vi sentite? Ciao a tutti grazie mille per i complimenti siamo torrate da una settimana da San Juan in Argentina dove si è disputata la finale della Coppa del Mondo e sia io che Greta siamo torrate vittoriose che abbiamo vinto entrambe la solo dance però io nella categoria senior e Greta nella categoria junior siamo molto felici e in Argentina è sempre bellissimo perché c'è un clima bellissimo e c'erano tantissime persone un pubblico molto numeroso e si è sempre una bella emozione è stato incredibile perché avete dovuto chiedere un aiuto che vi è arrivato forte avete sentito anche l'aiuto di Bologna tramite una raccolta fondi come è andata? allora abbiamo entrambe aperto una raccolta fondi una settimanina prima della partenza per cercare di rientrare un po' con le spese del viaggio e l'alloggio e devo dire che è stata accolta molto apertamente anche dal sindaco di Bologna Matteo Lepore che ci ha ricondiviso sui suoi profili social e quindi per noi è stato un gesto veramente molto apprezzato quindi infatti ringraziamo la città di Bologna e tutte le persone che hanno contribuito con noi per ottenere questa bella medaglia grazie il pattinaggio artistico è uno sport non olimpico quindi noi atleti anche ad alto livello internazionale non riceviamo uno stipendio mensile e il resto quindi tutte le spese sono a carico nostro e della società che comunque per le iscrizioni alle gare mette parecchi soldi per tutti gli atleti che partecipano quindi abbiamo pensato di fare questa raccolta per aiutare le nostre famiglie nella vita studentesse però esatto è appena finito il quarto anno del liceo sportivo al Sabin mentre lei fa l'università esatto sono al terzo anno di scienze motorie a Bologna è difficile combinare perché gli allenamenti soprattutto in vista tra un mesetto noi abbiamo i campioni italiani che sono la gara più importante dell'anno per la qualificazione poi alle gare europee mondiali quindi si combinare con gli allenamenti che sono pesanti col caldo noi ci alleniamo all'aperto al parco rodario a Casalecchio quindi mattina sera poi a tornare a casa devi studiare è faticoso però cerchiamo sempre di ritagliare il giusto momento per lo studio e poi quando c'è da allenarsi bisogna allenarsi perché per raggiungere gli obiettivi è necessario complimenti a queste ragazze questo era l'ultimo servizio noi ci salutiamo qui grazie per averci seguito vi auguro un buon pomeriggio e tv è sempre più online col nuovo sito www.e-tv.it costantemente aggiornato per vedere o rivedere i servizi della giornata i telegiornali e tutti i programmi della nostra emittente www.e-tv.it e ti connetti con la realtà che ti circonda